Passo in avanti per quanto riguarda il futuro del consorzio di bonifica Agrigento 3. La Commissione Bilancio e Finanza dell'Ars ha esitato positivamente l'emendamento voluto da Panepinto, Cimino e Cascio da 3,7 milioni di euro, somme che serviranno 3 milioni per il pagamento dei consumi dell'acqua ad uso irriguo dovuti dagli agricoltori relativamente alle annate 2012-2015 e 700 mila euro per gli stipendi dei lavoratori del consorzio. Soddisfatto Nino Indelicato del Copagri che però denuncia un fronte di agricoltori poco compatto nell'affrontare questa battaglia. Io sono amareggiato e come vorrei dire un po' anche arrabbiato perché il fronte quanto più unitario tanto più ha capacità e forza di portare avanti e gridare ai quattro venti le proprie ragioni. Noi abbiamo ragione da vendere per quanto riguarda la gestione organizzativa e economica dei consorzi di bonifica in generale ma per quanto riguarda il nostro consorzio di bonifica nostro intanto degli agricoltori e dei consorzi Agrigento 3. Il fronte è mancato, non è stato unitario perché mancava una organizzazione forte, rappresentativa. Quindi se il fronte partiva in un modo molto unitario potevamo essere molto più incisivi e arrivare al dunque prima ancora di arrivarci quasi in dirittura di arrivo rispetto a un percorso regionale. Chiaramente la guardia non va abbassata perché noi pensiamo anche di contattare subito e nelle prossime ore tutta la deputazione va bene chi è stata più o meno impegnata ma tutta perché in assemblea tutta la deputazione si deve sentire partecipa a dare una giusta risposta al mondo agricolo. Dopodiché poi finita questa fase noi affronteremo tutto quello che è la tematica più generale per quanto riguarda la questione dei consorzi di bonifica e il riordino. Il fronte quanto unitario paga perché ha più voce in capitolo ed è più attenzionato. Con nostra soddisfazione dopo più di un mese, un mese e mezzo di incontri, scontri, discussioni, analisi a tutti i livelli la commissione di merito della regione ha ammesso, ha dichiarato ammissibile l'emendamento. Questo emendamento che darà la possibilità all'Aula di fornire del liquido necessario, i soldi, i 3 milioni e 700 mila euro che sono stati previsti nell'emendamento stesso al consorzio di bonifica che con questi soldi se mantiene gli impegni assunti sia il commissario che la direzione del consorzio alleverà e nelle condizioni di allevere il peso dei ruoli emessi per quanto riguarda gli anni che partono dal 2012 fino al 2015 compreso del canone in riguo e la cosa più importante anche dell'altra parte dei ruoli che sono le spese di generali.